ben ritrovati da fabio pizzul con in dialogo i lombardi come ogni settimana tento di rispondere alle sollecitazioni le domande alle osservazioni che mi mandate quest'oggi due temi la sanità con un tema quello dei medici gettonisti che mi è sottoposto da luisa che sentiremo tra poco con la sua domanda e poi quello che io ho definito l'elefante nella stanza del partito democratico ovvero la questione letizia moranti in lombardia ma andiamo con ordine sentiamo la prima domanda ciao fabio sono luisa una cosa che mi ha sconvolto medici a gettone hanno fatto un servizio recentemente le iene dove parlavano appunto di questa carenza di medici e poi si scopre che i medici che mancano vengono sopperiti dai medici a gettone mi puoi spiegare meglio come cosa sta succedendo nella nella sanità perché sono piuttosto preoccupata grazie grazie a te luisa allora la questione non è nuova i medici gettonisti sono una realtà che ormai da qualche tempo ha a che fare con la sanità in lombardia e non solo in sanità il tema principale è quello della carenza dei medici mancano medici lo sappiamo non solo i medici di medicina generale molti di coloro che ci stanno ascoltando lo sanno perché magari non riescono a trovare un medico di medicina generale dopo che è andato in pensione improvvisamente spesso senza neanche un grosso preavviso il proprio vecchio medico e poi il tema dei medici ospedalieri ci sono alcune specializzazioni dei medici che non sono sufficientemente dotate di personale un po perché lo sappiamo ormai è mancata negli anni scorsi almeno da 15 anni a questa parte se non anche 20 un'adeguata programmazione della formazione dei medici per cui abbiamo alcune specializzazioni che non hanno un numero di personale sufficiente per sopperire a tutte quelle che sono le esigenze degli ospedali ecco di medici gettonisti si parla soprattutto per quanto riguarda gli ospedali cosa accade accade che ci sono degli ospedali che non riescono a garantire tutte le funzioni a cui sono chiamati perché non hanno i medici tra i profili più critici ci sono quelli di anestesisti ci sono ad esempio dei grossi ospedali in lombardia che sono praticamente privi o quasi di anestesisti e un anestesista è fondamentale per qualsiasi tipo di operazione quindi se non è anestesista le operazioni non le fai e poi l'altra l'altra area scoperta per quanto riguarda i medici da moltissime parti è quella dei medici di medicina d'urgenza perché ormai nessuno vuole andare a lavorare nei pronto soccorso perché perché uno è una situazione davvero difficilissima dal punto di vista del rapporto con i pazienti lunghissime attese con gente che oggettivamente poi dà in escandescenze quando uno sta 4 5 6 ore in pronto soccorso senza avere risposte con chi se la prende col personale che lì al pronto soccorso e poi perché le condizioni di lavoro i turni sono davvero gravosi e un altro aspetto da non trascurare è quello economico perché se andiamo a confrontare gli stipendi dei medici ospedalieri pubblici italiani con quelli dei loro colleghi nel privato e dei loro colleghi pubblici nel resto d'europa si vede come gli stipendi non non sono soddisfacenti sono molto molto più bassi cosa accade allora accade che gli ospedali in mancanza di medici per coprire le loro necessità fanno ricorso ai liberi professionisti alle partite ai medici partite iva ma chiamiamoli così che vengono in gioco definiti gettonisti allora un gettonista cosa fa si mette a disposizione ma per la legge del mercato che vale anche nel mondo del lavoro ospedaliero cosa succede succede che più è scarsa una risorsa più questa vale più può essersi più più può farsi pagare e allora come anche se è visto nel servizio delle iene luisa ma in realtà ne hanno parlato spesso i quotidiani anche nei mesi scorsi ci sono medici gettonisti che vengono pagati per un turno di notte in un pronto soccorso anche 600 800 euro un turno è di magari anche 12 ore per carità perché nel momento in cui uno viene assoldato il turno è ampio ma cosa significa questo significa che se uno fa tre quattro o cinque turni al mese riesce a portare a casa sostanzialmente lo stipendio di un medico che è assunto per fare lo stesso ruolo in un ospedale pubblico e allora ci sono alcuni medici che fanno due conti e dicono beh ma scusate perché io devo diventare matto per la stessa cifra facendo turni facendo notti non avendo giorni liberi eccetera eccetera quando nel momento in cui mi metto a fare il libro professionista quindi il gettonista lavoro 5 6 giorni al mese e mi porto a casa esattamente la stessa cifra sono una giovane medica e beh mamma magari ho risolto i miei problemi nel senso che non farò mai carriera a livello dirigenziale nell'ospedale pubblico che magari sognavo da giovane che si stava laureando in medicina però ho il mio stipendio e ho anche la mia vita privata questo accade anche con migrazioni non solo tra regioni ci sono medici lombardi che magari vanno a operare in altre regioni ma anche con migrazioni tra stati o tra continenti pensate alla questione dei medici cubani che sono stati reclutati dalla sanità calabrese insomma una situazione che ha come scenario quello della carenza di medici una carenza che come abbiamo letto ce lo diceva anche nella settimana scorsa con domanda cristina in un data room di simona ravizza e milena gabanelli sul corriere della sera andrà a risolversi gradatamente verso il 2027 da oggi ad allora però questo tema dei gettonisti è l'unico modo con cui alcuni ospedali riescono a far funzionare i loro reparti ribadisco sono tanti le problematiche della sanità e quando però si deve offrire un servizio ai pazienti si passa anche da queste scelte di emergenza tra l'altro guardate è un modo quello dei gettonisti anche per provare a risolvere il tema delle liste d'attesa perché le liste d'attesa sono determinate certo dallo squilibrio che soprattutto in lombardia c'è tra sanità pubblica e sanità privata ma anche e soprattutto dalla mancanza di personale se manca il personale tu non puoi utilizzare al massimo le macchine per la diagnosi piuttosto che gli studi per le visite e allora cosa fai per tentare di abbassare accorciare queste liste d'attesa chiama i gettonisti però con un dispendio davvero notevole dal punto di vista delle casse della sanità regionale la soluzione quale potrebbe essere una è quella di aumentare coloro che sono in formazione come medici e il problema sapete qual è che sempre meno giovani laureati in medicina scelgono le specializzazioni che sono più stressanti quindi come dicevamo prima l'anestesista piuttosto che il medico di medicina d'urgenza quindi in prospettiva noi avremo sempre più problemi su queste specializzazioni anche perché lo vediamo adesso con le scelte di coloro che escono dalla facoltà di medicina tanti vanno su delle specialità come ginecologia piuttosto che chirurgia estetica e via discorrendo che sono meno impattanti dal punto di vista della della propria carriera e del proprio impegno anche medico non è da biasimare coloro che fanno le scelte il problema è capire ma che prospettiva di vita e di professione ho io se vado a scegliere le specializzazioni più in prima linea mettiamolo tra virgolette non ho soddisfazioni economiche e soprattutto ho anche una marea di in prospettiva di guai perché c'è una utenza particolarmente aggressiva e particolarmente combattiva ci sono avvocati che lavorano proprio per andare a virgolette aggredire i medici per conto dei pazienti dal punto di vista degli errori questo il tema che avete sentito definire come medicina difensiva allora o ci mettiamo nell'ottica di aumentare gli stipendi ai medici ospedalieri del pubblico e a creare meno conflittualità nei loro confronti e a creare delle condizioni di lavoro migliori altrimenti possiamo fare tutti i salti mortali che vogliamo in chiave di formazione possiamo fare anche tutte le scelte organizzative ma rischiamo davvero di non risolvere questo problema non so se ho confuso ulteriormente le idee luisa però il tema dei gettonisti è esattamente questo dopo uno potrebbe dire ma un medico deve fare il medico per vocazione e non per interesse si ho capito però quando uno si vede di fronte la possibilità di fare il suo mestiere con orari molto più comodi e portando a casa molti più soldi rispetto a quello che farebbe in una condizione di medico assunto in una struttura pubblica beh tu cosa faresti ci sono anche gli eroi e per carità e sono tanti e anzi forse la maggior parte ecco mettiamola in questo modo per oggi sono anche quelli che fanno due conti e dicono ma chi me lo fa fare e tra l'altro oltre che i gettonisti il tema è anche quello della fuga dei medici dalla sanità pubblica perché nella sanità privata hanno più prospettive di sviluppo di soddisfazioni economiche di carriera rispetto alla sanità pubblica insomma bisogna ragionare molto su queste cose e guardate non sono solo regole regionali sono dei delle regole nazionali sulle quali bisogna ragionare a partire dai contratti e dagli stipendi dei medici ho parlato già troppo ben 11 minuti su questo tema però come vedete un tema molto molto importante delicato mi veniva voglia di dire appassionante ma anche angosciante da molti punti di vista e allora parliamo a questo punto di regione lombardia ciao fabio sono fabio da milano ho letto alcune tue dichiarazioni a proposito di un possibile dialogo sui contenuti con la candidata del terzo polo maria letizia moratti fatica a mettere a fuoco i temi vista la sua storia politica che potrebbero essere condivisi a partire dalla sanità con la riforma che porta il suo nome viceversa sarebbe auspicabile una sua partecipazione alle primarie di coalizione cosa ne pensi grazie buona domenica grazie fabio per aver messo i piedi nel piatto per così dire della questione moratti una questione che alleggia da qualche settimana mi risulta che ci fossero stati contatti con esponenti del partito democratico da parte di letizia moratti già da qualche mese non con il sottoscritto lo sottolineo perché da quando letizia moratti ha espresso disagio nei confronti della attuale giunta regionale un disagio che è cresciuto nel tempo fino a portarla dopo l'affermazione del presidente fontana di inizio ottobre di incrinamento del rapporto di fiducia con la sua vice ha portato a fine ottobre la stessa moratti a rassegnare le dimissioni da vice presidente assessore al welfare ecco queste a questo disagio stava portando letizia moratti da un da un po di tempo a ragionare su una sua possibile candidatura in regione candidatura che poi tutti abbiamo interpretato fino all'autunno di quest'anno come una candidatura interna al centro destra che potesse e questo non ci può che andar bene scompaginare spaccare frantumare il fronte del centro destra rendendo più contendibile regione lombardia poi abbiamo scoperto evidentemente anche se io non sono in grado di dirlo perché non ho interlocuzioni dirette in questo senso con letizia moratti abbiamo scoperto che in realtà nella testa dell'ex vice presidente c'è l'idea di una candidatura alternativa a quella che a più riprese lei ha definito destra sempre più destra che governa in lombardia che in prospettiva potrebbe governare con una lega al guinzaglio di fratelli d'italia perché questo è quello che ci ha presentato l'esito elettorale del 25 settembre e allora ragionare di una o pensare una lombardia che per altri cinque anni è in mano ad attilio fontana con una guinzaglio che lo tira verso destra da parte di fratelli d'italia beh è una prospettiva che mi angoscia particolarmente e mi pare di aver capito dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltato che è una prospettiva che crea molti problemi creerebbe molti problemi anche alla stessa moratti che si definisce di tradizione liberale con attenzioni anche sociali che non sono certo compatibili con una deriva di attilio fontana come quella che descrivevamo in precedenza a partire da questo assunto c'è stato quindi un passo di letizia moratti nei confronti del centro sinistra dicendo mi metto a disposizione di un progetto eccetera eccetera levata di scudi da parte della quasi totalità dei dirigenti e anche di molti elettori del pd che hanno detto mai con letizia moratti è incompatibile è stata sindaca di milano siamo scesi in piazza da giovani contro la sua riforma quando era ministra dell'istruzione a in rai non ci è piaciuta quando ha fatto la presidente a ubibanca non ci ha convinto ha avuto anche qualche dipendente di ubibanca dicendo guarda che ci ha trattato male quando ha fatto la presidente di ubibanca eccetera 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 insomma letizia moratti è una figura di centrodestra che a milano soprattutto ha una forte valenza di centrodestra quindi è incompatibile con la storia di tutti coloro che votano pd o si collocano all'interno del centro sinistra questo è l'assunto io mi sono permesso di dire solo una cosa guardate il tema non è salvare la propria anima dicendo non voterò mai questo non voterò mai quello perché devo salvaguardare la mia identità il tema è provare ad evitare che per altri cinque anni la regione Lombardia venga non governata da Attilio Fontani dico non governata perché guardate se facciamo altri cinque anni come quelli che si stanno concludendo la Lombardia che è già affaticata adesso rischia di prendere la mazzata definitiva e di scivolare nelle retrovie della competitività della innovazione della capacità di dare risposte ai cittadini non solo in Europa ma anche in Italia lo stiamo vedendo dagli ultimi dati che dicono di arretramento progressivo della regione Lombardia io voglio evitare quella cosa lì poi non è la mia candidata ideale Letizia Moratti ma ci mancherebbe anche altro il mio candidato ideale è uno che ha una storia o una che ha una storia di centrosinistra di riformismo una storia di attenzione ai più deboli ai più fragili eccetera eccetera e quindi qual è la prospettiva quella di provare a fare un percorso che vede il PD sostanzialmente solitario la coalizione che è seduta al tavolo adesso per capire se fare o non fare le primarie è fatta dal PD da sinistra italiana da più Europa dai Verdi da Possibile da Volt e un altro paio di sigle che addirittura i lombardi civici europeisti e un'altra sigla che fatico anche a ricordare senza offesa ma che mi dice che è una coalizione sostanzialmente identica a quella del 25 settembre dove andiamo con una coalizione di questo tipo? Andiamo a fare una bella testimonianza provando a perdere il meglio possibile e anche le fughe in avanti di già candidature alle primarie ufficializzate senza che le primarie siano convocate penso a quella di Pierfrancesco Marandi ieri mi sembrano più operazioni più che legittime per carità di posizionamento all'interno del partito o di volontà di proporsi come leader appunto all'interno del partito regionale Lombardo più che come nomi plausibili per vincere davvero in Lombardia poi magari sono anche candidature che sperano di ottenere la candidatura presidente per non rubare spazio a delle persone con cui si è fatto il percorso politico che vogliono candidarsi nella lista della circoscrizione di Milano ma scusate se ho fatto questa digressione ma il tema invece è capire riusciamo a costruire un progetto forte per regione Lombardia? Io ho sempre auspicato che si mettessero assieme tutti coloro che hanno combattuto e fatto opposizione a Tiglio Fontana in questi anni dai 5 stelle all'attuale terzo polo passando per i cibici questo non è possibile perché ci sono dei veti romani e quindi cosa facciamo? Piuttosto che fare delle primariette così lo definite rinchiuse sul PD e poco altro e fare una bella corsa di testimonianza convinti e contenti per votare il candidato che più ci corrisponde perché non proviamo a sfruttare l'occasione di una Moratti che pare essersi messa a disposizione di un progetto alternativo ad Attilio Fontana io se l'ho detto come correttamente ha affermato Fabio di provare ad andare a verificare possibili convergenze con Letizia Moratti. Fabio diceva ma non vedo possibili convergenze ma le convergenze non devi vederle in anticipo si va al tavolo parlando di sanità parlando di ambiente parlando di trasporti parlando di formazione e istruzione a capire se quello che ha in mente Letizia Moratti e quello che abbiamo in mente noi come Partito Democratico riescono a trovare dei punti di contatto e soprattutto riescono a creare delle alternative comuni a quello che non è stato fatto da Attilio Fontana in questi anni. non credo che sia un problema io ho detto andare a bere un caffè da parte dei dirigenti del PD regionale con Letizia Moratti per verificare queste cose le si verifica se come teme Fabio non c'è compatibilità beh paghiamo anche noi il caffè pagano pagano anche i dirigenti non mi metto anch'io tra quelli che devono andare da Letizia Moratti alla dottoressa e di fatto ciascuno va per la sua strada non tentare neppure questa strada mi sembra francamente un po' miope perché perché per poter vincere in Lombardia è illusorio pensare che di poterci arrivare da soli con PD e con quelle altre forze nobilissime e stimabilissime che ho citato in precedenza di 5 stelle non vogliono saperne di fare alcuna alleanza perché da Roma Conte dice andiamo da soli che ci conviene. Il terzo polo secondo me in maniera avventata ha messo il cappello sulla candidatura di Letizia Moratti prima ancora di ragionare con il PD per creare un'alleanza terzo polo-partito democratico e poi ragionare sulla candidatura. D'altronde Calenda Renzi ci hanno abituato a forzature di questo tipo che sono politicamente legittime. Chiaro che se poi creano nel PD solo una rivalza del tipo ecco questi ci prendono sempre a schiaffi ma ragazzi in politica per arrivare al risultato devi sapere anche per incassare gli schiaffi e provare a costruire un percorso. Non ci si fida di Calenda Renzi posso capirlo però di qualcuno devi fidarti se vuoi vincere le elezioni e qualcosa devi rischiare. Questo dicevo Fabio per tentare tutto il tentabile anche perché io non sono dell'opinione che si debba a tutti i costi tenere tutto sopito tutto tranquillo all'interno del PD e si debba privilegiare la tranquillità interna al PD di fronte a un obiettivo come quello delle elezioni lombarde. Ci sarà poi il congresso dicono tutti per decidere se il PD deve stare da una parte o dall'altra. Sì ma il congresso viene dopo le elezioni a quanto pare perché probabilmente si vota a febbraio e in Lombardia il congresso è stato convocato per marzo. Quindi io sono di questo parere. Proviamo fino in fondo tutte le strade per avere la candidatura più forte possibile per la Lombardia e vediamo se la dirigenza di cui io sono parte in Lombardia riesce a dire tentiamo assieme queste strade, scegliamo assieme senza pregiudizi e preconcetti e stiamo tutti assieme sulla scelta che abbiamo fatto. Io ho qualche dubbio che si riesca a fare questo perché il partito è già percorso da molte tensioni che preludono a eventuali fratture nel caso di una scelta troppo propensa alla sinistra o di una scelta troppo propensa al centro con magari l'ingombrante Letizia Moratti in campo però o il partito decide di voler vincere in Lombardia ed è in grado di rimanere unito anche magari baciando il rospo come diceva il mio amico Giovanni Colombo in un suo libretto di qualche anno fa che parlava della situazione politica milanese oppure siamo destinati alla rilevanza. Poi Fabio diceva un'altra cosa non me ne sono dimenticato perché Letizia Moratti non fa le primarie del centro-sinistra? Questa è una provocazione interessante così a pelle dico ma siamo proprio sicuri che Letizia Moratti voglia fare le primarie però non so cosa ne pensi potrebbe essere una provocazione interessante anche quella di andare al tavolo avere questo mitico caffè con Letizia Moratti dicendole cari Letizia vediamo il programma ma sei disponibile a fare le primarie nel centro-sinistra? E vediamo cosa risponde per verificare fino in fondo ogni possibilità. Poi qualcuno potrebbe dire ma no le primarie sono di centro-sinistra non voglio quella che ci rovina le primarie perché ha questa sua storia di destra tatuata sulla sua pelle e non possiamo noi neanche dialogare con certi personaggi ecco io credo che la realtà debba indurci a essere meno pregiudiziali e più disponibili a capire se ci sono dei progetti che magari non sono dei progetti ideali che noi immaginiamo o sogniamo però sono dei progetti che possono portare la Lombardia ad evitare di finire in una secca ma secca davvero desertica come altri cinque anni di amministrazione leghista con Attilio Fontana al quale faccio il mio in bocca al lupo per carità ho un buon rapporto con lui non ho nulla contro di lui però quello che ha fatto in questi anni quello che rappresenta e i suoi compagni di viaggio sono quanto di più lontano ci possa essere della mia sensibilità e della mia visione tutto qui cosa accadrà nei prossimi giorni ma francamente non lo so io mi auguro che ci possa essere un'apertura in questo senso e una verifica di questa prospettiva cosa che mi ha tirato gli strali e di buona parte del partito io non leggo sostanzialmente i commenti dei social però mi riferiscono di richieste di dimissioni di strali nei miei confronti di essere lì pronto a lasciare il partito e a correre col terzo polo tutto falso io voglio stare nel PD anche se ogni tanto bisogna un po' sgomitare e sono preoccupato per il suo futuro voglio stare nel PD sosterrò la candidatura che come PD sceglieremo per le regionali mi permetto però di fare in modo che si possa costruire la candidatura più e il percorso più solido possibile per provare a vincere in Lombardia dobbiamo aspettare altri cinque anni dopo 22 per provare a vincere in Lombardia ho avuto l'onore anche di una smentita da parte del segretario regionale Vinicio Peluffo al quale ha detto in un comunicato stampa la posizione di Pizzul non è la posizione del PD ne prendo atto io non voglio imporre niente a nessuno prendo atto però anche del fatto che avendo tentato a più riprese negli organismi di partito di proporre una riflessione come quella che vi ho proposto qui oggi l'ho fatto anche domenica scorsa in assemblea regionale ebbene non c'è stato il minimo dibattito qualche rumoreggiare in sala che ha portato qualche intervento che ha detto mai con Letizia Moratti però una vera discussione no e il fatto che poi l'assemblea abbia semplicemente votato la relazione fatta all'inizio dell'assemblea dal segretario regionale non ci sia stato sostanzialmente dibattito beh la cosa mi ha un po' scocciato e mi ha anche portato a dire beh allora io comunque le mie idee le esprimo perché se le esprimo nei contesti del partito i contesti del partito gli organi del partito sono guidati in maniera legittima però che sostanzialmente già preorientata beh francamente io mi sono sentito in coscienza di dar voce a una sensibilità che è presente all'interno del partito e che secondo me non andava soppita per responsabilità sapendo che mi sono preso i miei rischi che probabilmente se qualcuno pensava anche all'ipotesi di un pizzu il candidato in regione Lombardia dopo questa uscita questo diventa impossibile perché uno che vuole andare a bere il caffè con Letizia Moratti non ha il pedigree per fare il candidato presidente pazienza io faccio politica per tentare di fare quello che ritengo essere il bene di regione Lombardia e non per un percorso di carattere personale detto questo avrò fatto venire un mal di pancia a molti di coloro che mi hanno ascoltato ma ditemelo, esprimetelo con vostre osservazioni, con vostre domande mandatemi dei vocali e ne discuteremo nel prossimo in dialogo con i Lombardi che ci sarà puntuale tra sette giorni ringrazio tutti voi per l'ascolto, Luisa e Fabio per le domande e alla prossima settimana Grazie a tutti